Scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? E 5.35 Ma è sicuro? E 36, mo Grazie Ha mangiato il ciuchino, eh? Che no? Senta, vi sa dire che io le sono adesso? Andra volta Le 7.25 Ehi, ma sono le 7.25 spaccate, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo, sotto c'è il campanile, vedi? Sì, vedi? 7.25